Quattro giorni di festa a quelli che potremo vivere a Castione Andevenno grazie alla 34esima edizione del Ciappel d'Oro, di scena da giovedì 5 a domenica 8 luglio. Dico il programma che spazia dalle vigne allo sport, dalla musica alla buona tavola, sia sotto la tenso struttura sia nei ristoranti del paese. Giovedì si parte ai 18.30 all'auditorium Leone Trabucchi l'inaugurazione della mostra Vigna Bronzea con sculture e installazioni di Valerio Righini. Ai 19.00 il concerto d'apertura della 34esimo Ciappel d'Oro, l'esibizione live dei Dukes Flowers in collaborazione con Ambria Jets. Alle 20.30 la Pizzoccherate a seguire DJ Set. Venerdì sotto la tenso struttura cena tipica, live music alle 22.00 Wine and Shot by Night. Sabato 7 luglio si imparerà a dipingere col vino. Ci saranno i laboratori di degustazione con 7 vini valtrinesi. La sera cena tipica e musica live. Domenica è il gran finale, alle 17.00 la premiazione del concorso dei vini. Da non perdere glasswork, danza e acrobazie in un calice di vino. Abbiamo visto in diretta un momento molto importante alla manifestazione. Il Ciappel d'Oro ha di base il concorso dei vini dei piccoli produttori locali, cioè dei vini prodotti amatorialmente, quindi non in etichetta. È un concorso che si svolge da 34 anni. Sono stati raccolti 120 campioni selezionati in foianini. Di questi 120 campioni ne sono passati una quarantina per poi decretare i vincitori. Nelle tre categorie che sono la DOCG, la DOC e l'IGT. Il rapporto di Castione con la vilticoltura è un rapporto storico che risale a centinaia e centinaia di anni. Lo testimonia al fatto che già nel 1700 veniva importato in Svizzera tantissimo vino di Castione. Questo legame prosegue ancora adesso molto intenso, molto forte. La nostra festa del Ciappel d'Oro è proprio anche un po' un tributo a questo nostro essere paese del vino. Per gli sportivi il rafting sull'AD con lo staff dell'Indomita e il dog trekking tra le vigne di Castione. Siamo fortunati qui a Castione perché abbiamo tante generazioni che danno il loro aiuto perché siamo effettivamente un paese vivo.